Fonti, lei desidera portare la conoscenza della città a una sua situazione particolare che ritiene poter coinvolgere altri cittadini, segnalando dei disservizi, come è accaduto già in passato? La cosa più grave secondo me è il discorso che Caltacqua chiude alle 16.30 del venerdì e riapre alle 8.15 del lunedì dopo 63 ore e 45 minuti, salvo qualche festivo di venerdì o lunedì, per cui ci fornisce un bene prezioso, Caltacqua, non vende bene i volutari, il profumo invece che comprarlo oggi, lo compro fra tre giorni e non cambia granché. Quali sono i disservizi che lei vuole segnalare, che ha patito, lei ritiene di aver subito? Ho patito i servizi, l'acqua che viene di notte mi ha costretto a cambiare casa in ultima analisi perché in un primo tempo mi si è alzata la pressione perché con i motori accesi di notte si dormiva male. Dopo quando ho visto che la cosa peggiorava ho dovuto cambiare casa. Del tutto di questa storia ho fatto un'esposta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, ma non è successo niente. Questo è quello che succedeva in passato, adesso invece che disservizi registra? Il disservizio che ho registrato è questo, che la casa è disabitata, pago normalmente il canone, solo che l'acqua non arriva. E allora ho telefonato, ho ritelefonato, sempre negli orari consentiti, facendo delle code, certe volte non rispondo. Dopodiché ho fatto un fax, appena fatto il fax, mi hanno risposto che se ero disponibile andare alle 5 e mezzo di mattina per vedere che forse c'era un difetto nel mio impianto. Dicono, il difetto nel mio impianto non c'è, io non avrei niente in contrario a venire, però alla fine è che manca la pressione. Ancora il condatore è fermo e il serbatoio rimane vuoto. Di tutto, visto che nessuno non si smuove niente, ho fatto un esposto alla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissette, sperando che qualche cosa si muove. E ho chiesto al Presidente se si intravedono dei reati, se ci sono dei reati, punire il responsabile o i responsabili. Perché la carta del servizio non viene assolutamente osservata. Forse l'unica parte dove viene osservata sono gli aumenti contrattuali che regolarmente arrivano.